Musica Salve a tutti cari miei e ben ritrovati in questo video Un vlog molto particolare, molto veloce Credo che faccia un po' al volo Perché in questi giorni si sta scatenando un po' l'ira dei piloti reali Verso il sim racing o comunque videogiochi Chiamati videogiochi perché sono giochi Quindi ci sta essere molto presi da questi ultimi Però rimangono sempre giochi Attenzione Sto scaricando un gioco o meglio un simulatore Che ho usato solo due volte, quattro anni fa Senza setup guidai all'epoca con un formulino Non vi dico che simulatore è Però potreste arrivarci E dove nel giro di non so tre anni Sono stato chiamato mezza sega perché evidentemente i miei risultati non erano soddisfacenti Questo è un piccolissimo topic che non c'entra con quello che andremo ad affrontare Con quello che andrò a parlare Però per farvi capire quanto anche facendo due gare Quando all'epoca lavoravo in fabbrica Quindi non provavo Ho sostituito uno che era stato squalificato Avevo fatto una rimonta recuperando 20 posizioni Partendo ultimo perché con la squalifica non potevo nemmeno fare le qualifiche Squalifica che ripeto mi ha lasciato un altro pilota Mezza sega Attenzione, bene, sono contento Speriamo di riscaricare questo gioco E spero di rifarmi in futuro Qualora avessi l'opportunità di poterlo fare Detto questo parliamo di Daniel Abiti Chiamerò così Abiti In questo caso voglio mettere le mani avanti Non voglio sbagliare il cognome, la pronuncia Insomma Daniel ha fatto qualcosa che Ha fatto imbestellire naturalmente Audi Con cui ha lavorato Lavorava fino agli ultimi giorni e le ultime ore Ha fatto imbestellire alla Formula E il campionato che è stato organizzato dalla Formula E E tante altre persone Fino appunto a dover risolvere il contratto con la casa tedesca Di fatto non correrà più con la Formula E quindi si è un po' distrutto la carriera Come fece recentemente il pilota NASCAR che su Twitch ha detto una parola di troppo Per attirare l'attenzione che le è costato praticamente la carriera Così come probabilmente potrebbe succedere anche a Abiti Ok in quest'ora se ne sentono davvero di ogni Moltissimi piloti della Formula E sono dalla parte di Daniel Perché considerano ciò solo un gioco E molti addirittura non vogliono più mettere gambe e braccia su un simulatore Alcuni addirittura elimineranno proprio account sim racing Dunque diciamo che non l'hanno presa molto bene E soprattutto l'account Twitch tutti lo vorranno togliere, lo vorranno eliminare Questa è una cosa veramente molto al limite se posso permettermi Ma perché siamo arrivati a questo punto? Che cosa è successo a Daniel? Daniel nell'evento di beneficenza ma anche molto serio con vari sponsor Organizzato ufficialmente dalla Formula E con i piloti reali della Formula E Ha fatto correre per divertimento un sim driver professionista Annunciandolo comunque nella sua diretta di Twitch 4-5 giorni prima Che avrebbe fatto appunto un esperimento, un qualcosa di simile Che poi appunto ha voluto fare proprio nella diretta con tanto di driver swap Quindi il sim driver ha corso al posto suo e diciamo che è andata L'esperimento consisteva nel far vedere quanto un sim driver potesse andare più forte di un pilota reale Per far capire che ci sono due tipi di lavoro diversi Probabilmente, non lo so Comunque sia, fatto sta che ciò non è stato per niente visto come una bella azione da parte di Audi naturalmente Così come la Formula E e vari sponsor Al punto che Daniel ha perso praticamente tutto ciò che aveva Non avrà più un sedile e non si sa se in futuro riuscirà ad avere un'altra opportunità Quindi tutto ciò è costata essenzialmente la carriera Come ho detto al pilota tedesco Come sempre in questi casi il pubblico si è diviso in due parti C'è chi sta con Daniel, c'è chi sta contro Daniel Quindi le decisioni che ha fatto Da che parte sto io? Ora ci arrivo Permettetemi prima di fare una considerazione Il videogioco va trattato come tale fino ad un certo punto Perché quando ci sono gli sponsor di mezzo Quando grandi organizzatori reali organizzano qualcosa di virtuale Le cose iniziano a cambiare Le cose devono essere viste più come un lavoro Una collaborazione con degli sponsor O comunque con il tuo team eccetera eccetera Dunque ciò che è un videogioco alla fine diventa un lavoro Dunque non diventa nemmeno più necessariamente un divertimento Dato che si sta riprendendo un po' il mondo O meglio il mondo delle corse Restiamo nel mondo delle corse Sta iniziando ad andare avanti Quindi stanno iniziando a scendere in pista Come è successo per KTM Mi pare che è sceso in pista con le proprie moto La MotoGP in Austria forse comunque sia Sono scesi in pista Un po' tutti stanno ricominciando a potersi muovere Potersi appunto permettere di andare di nuovo ai box Dato che sono passati però più di due mesi Da quando siamo dovuti rimanere a casa per ovvie ragioni Il virtuale ha fatto comodo no? Quindi il virtuale non è che lo consideravano più di tanto le persone Ora in questi due mesi La situazione non dico che si è ribaltata Perché non si può mai Mai, mai, mai paragonare il virtuale alla realtà Però il virtuale ha riempito gran parte della mancanza Che abbiamo sentito Poi naturalmente più passa il tempo Più vogliamo e anche io assolutamente Rivedere le lotte I detriti che volano Le grandi pole position Vogliamo vedere tutto ciò Reale naturalmente Però secondo me non è molto giusto Prima non considerare Poi considerarlo in pieno E poi di nuovo schifare Una cosa In questo caso I videogiochi Ciò che ha fatto Daniel È sicuramente una cosa studiata Perché appunto L'aveva detto in una precedente live Lui tra l'altro è un ottimo influencer Visto che ha 300.000 follower Su YouTube Come anche su Instagram ovviamente Quindi diciamo che è uno che Ci dà molto dentro ecco E il suo esperimento Poteva anche andare bene Se fosse stato un evento tanto per Ma siccome si trattava di un evento davvero serio Con dei premi in palio E con la beneficenza anche di mezzo Forse poteva pensare di farlo altrove O forse di non farlo per niente Perché mettiamola così Ho avuto una discussione Chiamiamola così Anche se era veramente pacifica Con una persona che difendeva Daniel Dicendo che alla fine Voleva solo fare questo esperimento E che non gli interessava Andare a far punti o altro Semplicemente voleva far vedere Quanto era più forte un sim driver Rispetto a lui E va bene Come ho detto prima Poteva farlo in un altro evento Che magari non c'entrava niente Con un evento serio Di beneficenza Con premi in palio Eccetera eccetera Ma Sarebbe stato meglio Prima avvisare la formula E Avvisare il proprio team Di voler fare questo test E poi A seconda delle approvazioni Delle disapprovazioni Farlo oppure non farlo Questa cosa qui è anche stata spacciata Come una sorta di Ma sì Era una cosa per divertirsi Ho fatto questo driver swap Non è che c'era molto Non mi interessava Non interessava nessuno dei due Il risultato Bene Allora avresti potuto far correre Non un sim driver professionista Ma Non so La tua ragazza Tua moglie Un tuo amico Che magari non ne capisce nulla Di sim racing Avrebbe sicuramente causato Dei problemi In pista Però Forse non sarebbe passato Così tanto come scandalo Perché avresti fatto guidare Una persona Che Si Sarebbe divertita Non gioca Per lavoro Comunque Non è un sim driver professionista E quindi non ti può Aiutare A vincere qualcosa Secondo me Avrebbe fatto Una brutta figura comunque A far correre qualcuno Che non era un sim driver Ma sarebbe stato un po' più divertente Da vedere Un po' Una cosa carina Che si poteva magari sorvolare In questo modo sinceramente Io non vedo alcun pro Per quanto riguarda Daniel e quello che ha fatto Per me E in totale torto Poi Se dobbiamo andare a considerare Tutto ciò che ha perso Forse La situazione è un po' degenerata Però in quel caso Non possiamo metterci Bocca Non possiamo aprire bocca Non possiamo dire nulla Perché Si tratta di sponsor Si tratta di Legami contrattuali Eccetera eccetera Quindi solo lui sa Alla fine Per bene Quello che è successo Successivamente Concludo dicendo Che una carriera stroncata Di Kyle Il pilota NASCAR E di Daniel Il pilota appunto Di cui ho parlato oggi Di Formula E Per via dei social Quindi per via Del sim racing E per via Di Twitch In questo caso Dovrebbe far riflettere Perché alla fine Non è per colpa Dei videogiochi Che è successo questa cosa Ma per degli azioni Che hanno Poi causato tutto ciò Quindi non è nemmeno colpa Di Twitch Perché una persona Di sua spontanea volontà Apre il canale di Twitch Come dice delle cose Su Twitch Quindi Perché deve essere colpa Dei videogiochi Perché deve essere colpa Di Twitch Concludo dicendo due cose Ovvero che tre anni fa Precisamente A gennaio del 2017 Si è corsa una gara Su Factor 2 Con la Formula E Con piloti virtuali Sim driver Veramente forti Professionisti Contro piloti Contro piloti reali Da punto di Formula E C'era Felix Rosenquist Che era veramente Una scheggia Sul virtuale E altri che l'hanno Presa un po' A gioco Eppure il monte premi Per quell'evento Fu di un milione Di dollari Che ad oggi Dovrebbe essere ancora Il monte premi Più alto Della storia Del sim racing E sport Per farvi capire Quindi questi tipi Di confronti C'erano già stati Tre anni fa E l'ultima cosa È che praticamente ogni giorno O alle 18 circa O alle 20 e 30 21 circa Sono in live su Twitch E ci sono anche dopo Questa quarantena Ci sono praticamente Sempre Quindi Io sono qui Sono lì Per voi Quindi se volete Trovate tutto in descrizione Così come anche Il canale Instagram O meglio il profilo Instagram Grazie mille per il supporto E noi ci vediamo prestissimo Ciao ciao